Benvenuti nel nostro canale! Allora, questo è il gruppo delle piccolette della preagonistica che si allenano 6 ore a settimana e iniziano a fare una buona ginnastica. Le nostre future promesse. Allora, chi si presenta per prima? Vai, vieni qua davanti. Vieni qua davanti. Io mi chiamo Francesca Astorino. E quanti anni hai? 6. 6 anni? Cosa ti piace della ginnastica? Fare parallele. Parallele, ok. Orora, ok. Pag! 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 Vai! Mi lista di fede, sei anni e mezzo E? Qual è il tuo attrezzo preferito? Parallela Anche tu parallele Giada Ok Pavarelli Giada Pavarelli Anche tu parallele Pavarelli Anche tu parallele 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 Mi piacciono le parallele E quanti anni hai? Sei Sei anni Anche tu parallele 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 Anche tu alteri E? Musica Io mi chiamo Lavigna Bollaco e mi piace le parallele Ok, quanti anni hai? Sei anni Musica 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 Musica